buongiorno e benvenuti a tutti io sono dimitri bellini e siete di nuovo qua nel mio canale quadrata il canale dedicato al mondo dell'open source e il più delle volte anche a zabbix che è il nostro tool di monitoraggio preferito quest'oggi volevo portarvi un caso d'uso che mi è capitato proprio in questi giorni cioè la possibilità di visualizzare dei dati in grafana ne avevamo già parlato avevo fatto un video dedicato su come installare grafana come poter interagire con zabbix e in questo video volevo invece farvi vedere qualche particolare in più avanzato su grafana perché mi è capitato proprio di doverlo utilizzare e ci ho sbattuto un po la testa ok tra allora andiamo subito a vedere un recap molto veloce come si installa grafana su ambiente redat based quindi rocky alma e redat è abbastanza semplice basta stare attenti alla versione che dovrete andare installare perché i nostri amici grafana o devono fare anche loro un po di upselling e adesso hanno una loro versione enterprise è una versione open source ok detto ciò però non è che cambia tantissimo quello che invece dovete fare creare un file chiamato grafana repo all'interno di un repos.d e poi ricordatevi di escludere le beta perché altrimenti viene fuori un casino quindi all'interno dello stesso file quindi grafana repo come ultima riga andate ad aggiungere exclude uguale asterisco beta asterisco ok detto ciò poi è veramente facile you install grafana server e siete a posto altra parte fondamentale è invece il plugin dedicato a zabbix ok come lo installate molto semplice da command line sulla shell quindi di dove avete installato il vostro grafana lanciate questo comandino qui e lui vi installa il plugin dedicato a zabbix poi fate restart eccetera e guardatevi poi a questo punto la guida che avevo già fatto in precedenza non voglio annoiarvi troppo sappiate però che visto che è uscito zabbix 6.4 da poco chiaramente il plugin aveva dei problemi perché perché nel 6.4 di zabbix ci sono stati dei cambiamenti nell'api nella parte di autenticazione quindi se avete già grafana installato e avete aggiornato zabbix la 6.4 occhio a quale versione del plugin state utilizzando perché proprio negli ultimi giorni era uscita la versione 4.3 di grafana plugin e poi è subito uscita la 4.3.1 perché va a fixare come anche è stato citato nel canale e me lo stavo dimenticando zabbix italia su telegram siamo veramente in tanti e un ragazzo mi ha fatto notare che non funzionava in maniera corretta infatti poi lo sviluppatore è andato a risolvere il problema adesso non mi ricordo se qua o da qualche altra parte ma eccolo qui zabbix authentication does not work quindi ha fatto alcune modifiche ha aggiunto alcune funzioni nuove al plugin quindi vi conviene aggiornarlo ok detto ciò arriviamo al nostro caso d'uso il caso d'uso mio era volevo mostrare quale era la scadenza dei certificati ssl presenti su alcuni siti e come potevo rappresentarli in maniera decente perché chiaramente vanno magari da zero che proprio non abbiamo più giorni disponibili nel nostro certificato a magari un anno due anni eccetera e quindi volevo avere la possibilità di visualizzare in maniera più concreta il dato di qual era l'host che aveva installato il certificato che era più prossimo alla scadenza e quindi volevo raggiungere quello che vedete qua una rappresentazione in più modalità perché dipendeva un po' no da anche dal cliente quale sceglieva quella che gli piaceva di più questa è una modalità tabellare con il primo valore in rosso che rappresenta l'host che ha il certificato scaduto e poi a seguire tutti gli altri che hanno delle date no all'interno di specifiche trishold però potevano esserci molti più siti quindi bisognava ordinare sortare il dato in maniera tale che solo quelli che effettivamente avevano una data molto prossima alla scadenza mi fossero visualizzati perché altrimenti se ho 50 siti avrei avuto 50 gauge 50 righe di della tabella eccetera eccetera oppure un'altra visualizzazione anche carina era questa qua a box con lo sfondo che rappresenta il livello di criticità del problema e anche qui sortato per chiaramente importanza quindi quello che è scaduto fino a quello che ha più giorni a disposizione sembra banale tutto ciò ma non lo è perché perché primo problema tra tutti era la rappresentazione grafica qual'era quella più accattivante allora a me non dispiaceva questa qua a gauge ma il gauge normalmente parte da 0 fino a 100 no quindi parte da un angolo che è uguale a facciamo finta a 0 e poi va a 180 e rappresentano il il valore che noi stiamo raccogliendo il punto è che normalmente invece qua nel mio nel mio caso d'uso è il valore 0 rappresenta il problema maggiore e il valore 180 per esempio rappresenta nessun problema perché vuol dire che ho 180 giorni prima della scadenza del certificato quindi per me doveva essere verde quindi come poter rappresentare in maniera carina il fatto che questo questo gauge rappresenta un host che ha effettivamente il certificato scaduto tramite e andiamo a vederlo qua nel dettaglio tramite un un valore specifico di valore minimo a 150 in modo tale che in mezzo noi abbiamo la partenza del nostro gauge e quindi tutti i dati partano da questo punto e vanno verso quest'altro punto a indicare che tutto è a posto e quindi tra meno 150 e 150 e in più chiaramente dovevamo identificare delle threshold quindi quella ho dovuto mettere una threshold base trasparente e poi partire da rosso che ho uguale a 0 e poi successivamente tutti gli altri colori in base ai giorni disponibili per fare che cosa per ottenere quello che vedete qua quindi quando è 0 comunque abbiamo una barra qua che mi indica che c'è un problema molto in maniera molto evidente quando invece è lì vicino all'approssimarsi dello 0 abbiamo un bel colore giallo molto evidente quando tutto è a posto è bello verde ok quindi in questo modo almeno dal mio punto di vista era abbastanza carina la visualizzazione altro problema era come posso rappresentare però i dati che provengono da più host e quindi questo dato qua è un singolo item che rappresenta il numero di giorni e normalmente in grafana tramite l'integrazione con il nostro zabbix noi abbiamo un data source che rappresenta la metrica dello sgroup x e poi di che cosa? degli host questa questa come vedete qua in questa modalità punto asterisco indica una regular expression all'interno di caratteri di escape e poi l'item che dobbiamo prendere in considerazione quindi qua io gli sto dicendo a grafana dammi tutti gli o cioè dammi tutte le metriche che si chiamano my gouge per tutti gli host appartenenti al gruppo host group gouge test quindi avremo un unico data source con più metriche che provengono da più host a questo punto però non era sufficiente perché altrimenti cosa ottenevo? ottenevo una sfilza di di gouge e ve lo faccio vedere qua tolgo le varie opzioni e come vedete qua a parte che viene fuori in maniera non ordinata ma sarebbero venute fuori veramente tanti tanti valori per tutti gli host che ci sono io qua però ho solo 4 host me l'avevo dimenticato ok? quindi il primo problema era anche sortarli quindi ho aggiunto un filtro button e poi button di che cosa? degli ultimi due valori degli ultimi due più importanti host posso farlo e poi gli posso dire su però quale funzione di aggregazione deve lavorare nella fattispecie a me interessa leggere l'ultimo valore raccolto perché io non ci devo fare una media dei giorni di scadenza no devo prendere l'ultimo valore quindi gli dico last ok? quindi mi dà l'ultimo valore in assoluto così è più puntuale e poi altra piccola annotazione è proprio questa cosa qui che è un pochino più tricky vi faccio vedere che cosa succede senza sostanzialmente il grafana mi propone hostname e metrica nome della metrica il che se avete un insieme di host non era proprio il massimo della leggibilità e quindi cosa andiamo a fare? andiamo a creare con la funzione set alias e poi andando a esprimere tramite una specie di keyword che viene proposta direttamente dal plugin di Zabbix su Grafana andiamo a forzare l'utilizzo dell'hostname poi ci sono varie macro che potreste mettere qua trovate nella documentazione del Grafana plugin di Zabbix che vi potrebbero essere utili in altre circostanze nella fattispecie a me interessava ottenere questo risultato qua quindi avere il nome dell'host e basta perché non volevo fare troppi casini questa è la soluzione più interessante che avevo trovato e qua avevamo visto che ci sono un insieme di escamotage per ottenere questo sorting ben specifico pulire il dato e mostrarlo in maniera abbastanza decente altro problema era come lo voglio cioè se lo volessi vedere come tabella come faccio allora io posso a questo punto definire la tabella qua su Grafana e poi banalmente avrei potuto come vedete qua replicare le medesime funzioni che avevamo all'interno del gauge quindi host group, tutti gli host appartenenti a questo host group e poi l'item di riferimento qua le opzioni erano praticamente molto simili qui si introduceva una trishold e poi da qualche altra parte adesso non mi viene più in mente, ah ecco qua, cell type, colored background e andava a prendere il colore dalla trishold quindi fin qui nulla di che, peccato che però di base questa tabella qua vi avrebbe fatto vedere per ogni host e per ogni dato raccolto su Zabbix il relativo valore quindi qui avreste avuto una sorta di tabellone tipo Excel con tutte le date, l'host e l'ultima metrica letta e non era proprio il massimo della leggibilità, ok? quindi per far ciò in Grafana, e devo dire la verità sono abbastanza bravi questi qui di Grafana perché hanno fatto un ottimo lavoro esiste una possibilità che è la trasformazione del dato quindi una volta inserita la query che ci fa ottenere i dati che vogliamo possiamo trasformarli ci sono varie metodologie di trasformazione e vi faccio vedere anche senza la trasformazione cosa otteniamo vedete che mi andava a mostrare questo... la data e il relativo valore e se avessimo avuto tanti valori veniva fuori una sbrodolata di roba qua invece noi vogliamo andare a concatenare il dato e quindi esco e ve lo rifaccio vedere Edit Transform quindi andiamo a scegliere la trasformazione che si chiama Reduce in modalità Series to Row e poi il metodo di calcolo, quindi l'ultimo dato, ok? perché abbiamo sempre detto io non ho bisogno della media, non ho bisogno del valore massimo, ho bisogno dell'ultimo dato e quindi mi va a mostrare in maniera molto più elegante solo gli ultimi dati di questa metrica specifica su ogni host ok? quindi anche questo è un bello scamotage non banale da trovare e quindi ve l'ho voluto segnalare altra cosa di nuovo interessante era come ho ottenuto questa rappresentazione qui in maniera molto semplice, sono partito dalla definizione del mio Gauge e poi gli ho detto Duplica e l'unica cosa che ho cambiato è stata la modalità Stat quindi è quella che ricorda in Zabbix il Single Item e quindi lui si è portato dietro tutte le varie opzioni che avevo, mi ero già preparato nel Gauge quindi il Botton e il Set Alias e più tutte anche le Trishold quindi mi è venuto veramente molto semplice passare da una metodologia di visualizzazione a un'altra è anche carina questa qua perché è molto evidente rispetto per esempio a un'altra metodologia quella che vedete qua sotto, questo è il classicone che va a creare dato un primo grafico che vado a definire, sfruttando le variabili che vedete qua sopra il Grafana me le ripete per tutti gli altri, per esempio in questo caso host e infatti qua vedete se io metto host uguale Gauge host 1 qua sotto avrò solo il Gauge host 1 perché? perché lui sa che deve ripetere quel grafico per tutti gli host che sono evidenziati all'interno di questa tendina quindi se io gli dico all lui andrà poi a espandermeli tutti, ok? quindi come ho fatto Edit, ok? a parte la creazione di queste variabili che vi rimando al video che avevo fatto in precedenza qui le metriche sono praticamente le medesime ma poi cosa sono andato a dirgli, scusate qua c'è un'opzione dedicata Repeat Option Host, ok? potete, vabbè, chiaramente potete scegliere host group o host nel mio caso ho scelto host in modo tale da far ripetere questa rappresentazione grafica per tutti gli host cosa non mi piaceva di questa modalità qua? è il fatto che non mi preserva il sorting, ok? perché giustamente il dato che andiamo a prendere è di una sola macchina quindi non sa le altre macchine che valore hanno e quindi non possiamo rappresentare in maniera coerente come è qua dal primo che ha la scadenza più vicina a quello che ha la scadenza più lontana ok? quindi questa tipologia di visualizzazione potrebbe essere utile in altre circostanze altra cosa che secondo me è molto interessante come possibilità che poi magari può essere utilizzata in altre circostanze di utilizzo è quella che vedete qua quindi il grafico è sempre al medesimo quindi basato sulle variabili ma questo è la modalità Gauge Bar e la vediamo qua quindi Bar Gauge quindi più o meno è simile alla configurazione che avevamo visto in precedenza anche qui la modalità è Repeat by Variables ma quello che volevo farvi vedere in questa specifica visualizzazione è questo trick in pratica abbiamo un nuovo dataset che si chiama B che va a prendere che cosa? va a prendere un item un ulteriore item dal mio host di riferimento e che cosa me ne faccio di questo ulteriore item? lo vado a trasformare all'interno del percorso di trasformazione sfruttando l'opzione Config from Query Result dicendogli che deve utilizzare la Config Query B applicata ai campi di tipo poi vediamo qua Apply to Option Number e poi gli diciamo guarda il valore di questo item devi trasformarlo nella option che si può chiamare per esempio nel mio caso Max, Ignore, Fill Name, Fill Value, Minimo, Unit eccetera eccetera nel mio caso l'ho messo a rappresentare il fondo scala della mia barra gouge e poi di nuovo anche qua su come devo lavorare sull'ultimo valore, sulla media eccetera eccetera nel mio caso Last e questo cosa si trasforma? lo vedete in questo modo cioè se io adesso cambio vado ad alterare il valore della rappresentazione del mio gouge quindi setto il valore di soglia massimo a 0 vedrete che qui quando non appena si aggiorna il grafico qua cambierà e diventerà tutto rosso vediamo un po', ok vedete che è diventato tutto rosso perché ho cambiato il valore di scala e l'ho messo a 0 ok? quindi per forza di cose in questo caso è 0 e quindi è venuto fuori tutto rosso ma quello che era interessante vedere era proprio la possibilità di andare a mappare dei campi dinamici all'interno di alcuni parametri di grafana e questo secondo me è veramente molto 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 utile perché in questo caso specifico ho mappato il fondo scala però per esempio potreste mappare il valore massimo all'interno di un grafico che rappresenta il throughput di una scheda di rete o di un trunk eccetera in questo modo avete il valore massimo che è espresso proprio dall'hand shake della porta e quindi magari è 1 giga, 10 giga e poi in mezzo il valore di throughput e così uno si fa subito l'occhio e dice ok, il canale è saturo ma è saturo in maniera dinamica perché magari non tutte le porte sono a 10 giga ma ce n'è una 1, una 10, una 5, non lo so e quindi questo è un parametro dinamico che in automatico viene ereditato dal parametro che viene preso direttamente dallo Zabbix e quindi qua poi se io vado ad aggiungere e dico fammi vedere tutti gli host in automatico mi andrà a settare in maniera coerente con il valore che è all'interno del singolo host del fondo scala quindi è veramente molto interessante questa funzione detto ciò niente, per oggi è tutto mi interessava farvi vedere queste possibilità perché comunque il più delle volte questi video sono anche per me e i miei colleghi che a volte non ci ricordiamo più perché è normale non ci sta tutto dentro e quindi a volte ci è utile anche rivedere questi video per dire ok guarda si faceva così quindi ve l'ho voluto far vedere perché secondo me è molto interessante detto ciò grazie ancora di aver visto questo video ci vediamo la prossima settimana con tante altre novità spero di portarvi qualcosa sempre di succulento e vi ricordo chiaramente il canale Zabbix Italia su Telegram iscrivetevi siamo veramente in tanti e ci può piacere anche vedere te che sei guardato questo video un salutone da Dimitri alla prossima settimana ciao a tutti